ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo come promesso vi porto la guida su quali business acquistare soprattutto se siete nuovi giocatori questo video vi risulterà utilissimo quindi mi raccomando prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate le notifiche lasciando ovviamente mi piace visto che molti di voi guardano i miei video senza essere iscritti però ragazzi come vedete appena esce un contenuto su gt online più inutili almeno secondo me visto che non ci si può guadagnare tantissimo ci sono delle attività insomma esclusive che potete fare con l'arena war ma a livello di guadagno non vi porta tantissimo quindi non è uno dei primi business da acquistare su gt online per il resto c'è veramente poco da dire passiamo poi alla fabbrica di documenti con il motorcycle club che vi permette di guadagnare circa 20 mila dollari per ora passivamente però poi considerate che ci potrebbero essere anche degli assalti da parte di alcune gang che vi potrebbero far perdere dei soldi quindi come vedete ci guadagnate veramente poco e va dai 650 mila dollari a un milione e due se acquistate insomma la più costosa senza senza contare le 900 mila dollari di modifiche se volete tutto quanto al massimo quindi assolutamente non conveniente passiamo ora agli appartamenti con cui potete fare i colpi di gt online che sarebbero appunto i colpi classici che hanno aggiunto nel 2015 sono il colpo la fleca che vi danno che vi da 250 mila dollari quello dell'evasione che vi da 875 mila dollari quello ai laboratori humane un milione e cento quello di trevor 880 mila dollari e il pacific standard un milione e otto ve l'ho messo in questa posizione perché sono colpi scomodi visto che dovete essere almeno in due giocatori e soprattutto se siete solo players insomma non è molto facile trovare un giocatore che sappia fare questi colpi infatti non molti su gt online li hanno completata di tutti quanti comunque se vi serve qualche giocatore trovate il link del gruppo telegram nella descrizione in seguito ho inserito le fabbriche del motorcycle club quella per l'erba soldi e insomma per la meth sono tutte sullo stesso livello almeno a mio avviso stesso problema della fabbrica dei documenti possono essere assaltate è tutto guadagno passivo però comunque sono veramente lente vi fanno guadagnare rispettivamente 48 mila dollari per ora 38 mila dollari per ora e 41 mila dollari per ora ma se andate a considerare quanto dovete spendere insomma per comprare solamente la struttura perché appunto dovrete ovviamente avere il motorcycle club di base la clubhouse che costa poco però comunque poi dovete andare a spendere ad esempio 715 mila dollari per quella dell'erba che è la meno costosa oppure un milione 3 che è la più costosa ovviamente la più costosa i suoi vantaggi perché appunto riceverete le emissioni diciamo in zone facilmente raggiungibili poi passiamo la base operativa con cui appunto potete fare i colpi dell'apocalisse e potete insomma sostanzialmente avere il cannone orbitale e l'avenger col cannone orbitale ovviamente non ci guadagnate nulla è una spesa diciamo abbastanza inutile se siete nuovi giocatori l'avenger è utile per determinate cose ma non è propriamente fondamentale invece i colpi dell'apocalisse sono veramente belli sono fatti molto bene forse uno dei migliori dlc di gta online il problema è che non si fare da soli anche in questo caso non sono proprio facili per uno che appena iniziato a giocare e soprattutto ragazzi vi ripeto serve un amico come al solito c'è il gruppo telegram in descrizione il più grande in italia quindi qualcuno trovate però come al solito farlo con sconosciuti è un po' un casino perché l'atto 1 paga 812 mila dollari l'atto 2 il bogdan il famoso bogdan perché c'è il glitch ve l'ho portato comunque sul canale vi dà un milione e cento più o meno e l'atto 3 un milione e 5 anche in questo caso la base operativa non è propriamente economica va dal milione e mezzo al insomma intorno ai 3 milioni siamo adesso invece all'esportazione dei veicoli anche in questo caso vi servirà la struttura di base che è il ceo e potete comprare insomma questo magazzino che è per i veicoli potete fare import export ci sono tantissime strategie per ad esempio trovare solamente i veicoli di alta fascia vi ho portato una guida così appunto potete guadagnare il massimo vi permette di fare più o meno 100 150 addirittura 200 mila dollari per ora se esportate solamente veicoli di alta fascia vi viene a costare sostanzialmente un milione e mezzo due milioni e sei questo business non è che sia proprio economico ovviamente dipende cosa andate a comprare e dove lo andate a comprare è per carità una cosa unica su gta online e comunque ricordatevi che lo potete fare sia in sessione di inviti che in pubblica ovviamente in pubblica avrete il vantaggio del 2% bonus per ogni giocatore quindi vi farà guadagnare molto di più ora il business che l'anno scorso avrei messo in ultima posizione quest'anno ha guadagnato un po di posizioni ed è proprio l'hangar hanno messo insomma hanno cambiato con l'ultimo dlc adesso una cassa invece di valere 10 mila dollari ne vale 30 mila quindi hanno triplicato i soldi sull'hangar e rimarrà così per sempre l'hangar è un business che vi permette appunto di vendere cassa simile al ceo ma tramite aerei e in più è fondamentale secondo me perché appunto potrete comprare aerei e tenerli là come un garage quindi come vedete potete rifornire vendere le scorte diciamo che un giocatore normale ne fa 5 6 7 in un'ora se fate il calcolo sono 180 200 mila dollari per ora con l'hangar quindi non è malissimo anche in questo caso non è che sia proprio economico un milione e mezzo tre milioni e due massimo con le modifiche poi inseriamo l'ultimo business del motorcycle club che è la fabbrica di coca è quella che vi permette di guadagnare di più 63 mila dollari per ora e viene a costare insomma tra il milione il milione e mezzo è più o meno quello il range di prezzo se dovrete comprare se dovete per forza comprare un business mc io vi consiglio quello della coca perché insomma è passivo vi permette di guadagnare di più e ovviamente comprate un magazzino che non sia il più costoso insomma una via di mezzo non magari a paleto b perché è scomodo passiamo adesso al business delle casse del ceo quindi praticamente la vendita delle casse funziona simile all'hangar solo che vi servirà il ceo come struttura di base viene a costare insomma il meno il più economico che questo qui come vedete vi costa 250 mila dollari però il magazzino piccolo 880 mila dollari quello medio un milione e nove quello grande insomma il più costoso in più ci sono anche le modifiche per insomma i veicoli di consegna che non è insomma una cosa da sottovalutare però la cosa bella di questo business è che adesso lo potete fare in maniera passiva perché appunto c'è loop che per 7500 dollari vi recupera il carico vi può recuperare una due o insomma tre casse se siete fortunate una cassa 2000 dollari due casse 8000 tre casse 18000 dollari quindi come vedete è un business passivo che potete far fare direttamente a loop quindi ci può stare poi passiamo al bunker che insomma è un business utilissimo soprattutto perché vi permette di sbloccare le ricerche che sarebbero appunto i colpi esplosivi e tutte quelle robe lì li presegrete quindi vi consiglio di comprarlo diciamo che anche in questo caso è un business semi passivo perché insomma rubate le scorte e poi fa tutto quanto il bunker altrimenti acquistate le scorte anche in questo caso ragazzi il bunker è spesso scontato ci sono spesso i soldi doppi quindi insomma è un business da avere vi viene a costare tra il milione 100 e i due milioni insomma quindi è diciamo abbastanza economico e in più hanno aggiunto questa nuova funzione che vi permette di vendere gli scarti ad ammunition e vi da 50 mila dollari se non erro lo potete fare ogni 48 minuti di gioco forse un po di più comunque dipende dalla merce che avete quindi insomma è un business da comprare secondo me sì ed è veramente insomma tranquilla come cosa passiamo una delle mie strutture preferite che è l'officina dei veicoli che hanno aggiunto con il dlc ls tuners vi permette di fare tantissime cose anche se abbastanza costosa perché va dal milione e mezzo insomma i due milioni per comprare la struttura insomma più costosa ovviamente più le modifiche potete modificare i veicoli dei clienti come vedete anche se diciamo che è un'attività di nicchia non vi permette di guadagnare tantissimo però è divertente da fare poi avete la funzionalità dei veicoli esotici che sarebbero quelli che spawnano con il pallino blu sulla mappa e anche in quel caso vi danno 20 mila dollari per veicolo non è che sia proprio la parte principale del business ma invece la parte principale del business sono i contratti c'è anche un trucco per insomma scegliere quale contratto giocare come vedete due missioni di preparazione il colpo finale quindi sono veramente facili un giocatore normale in mezz'ora se ne completa uno e come vedete vi da 150 200 300 mila dollari il più quello che vi paga di più che è quello appunto alla union depository vi da 300 mila dollari e c'è il trucchetto che vi ho portato sul canale su come farvi uscire sempre quello potenzialmente vi potreste fare anche 600 mila dollari ogni ora con l'officina ora passiamo alla sala giochi come vedete eccola qui mi piace tantissimo come business perché vi permette di fare i colpi al casino diamond che sono secondo me i colpi migliori del gioco non magari a livello tempo speso guadagno perché quello è caioberico ma proprio per come sono fatti per gli approcci se non li fate da soli perché ovviamente non li potete fare da soli vi divertirete sicuramente tantissimo e ci perderete un sacco di tempo come vedete c'è la cassaforte che vi permette guadagno passivo insomma avendo appunto la sala giochi allestita perché appunto la gente entra gioca e vi lasciano insomma dei soldi come vedete ho ritirato 90 mila dollari così e poi sotto insomma potete mettere il centralino per controllare tutti i business ma non è che sia fondamentale e poi ragazzi qui si avvia il colpo al casino che vi permette di fare veramente bei soldi anche se diciamo che in media si completa ogni due ore quindi come vedete costa 25 mila dollari avviarlo e diciamo che tra fare preparazioni e tutto quanto ci sono vari metodi vi ho portato ad esempio tutte quante le guide quindi andatevele a guardare se vi interessano però ragazzi ci mettete due ore buone e vi serve almeno un amico appunto con cui fare il colpo quindi siamo adesso alla new entry su gt online che è il laboratorio di acidi che sostanzialmente potrete avere gratis ed è uno dei migliori business del gioco perché completando le missioni della prima dose vi fate circa 600 700 mila dollari il laboratorio di acidi vi costa 750 mila dollari quindi sostanzialmente ve lo regalano vi consiglio di fare così invece di comprarlo direttamente però insomma vedete voi e vi permette di fare circa 60 mila dollari ogni ora e in più ragazzi se lo andate a riempire tutto quanto avrete un solo veicolo per la consegna ed è una cosa comodissima che è sempre quella moto lì che avete visto fuori dal mio laboratorio di acidi ed è comodissima appunto per fare le consegne mentre con altri business normalmente più insomma carico avete più veicoli vi darà e più difficile sarà vendere il tutto con il laboratorio di acidi sarà sempre e solo la moto quindi assolutamente da avere soprattutto per i nuovi giocatori hanno aggiunto questo business praticamente con il dlc di dicembre quindi per chi inizia adesso ragazzi io vi consiglio di prendere direttamente il laboratorio di acidi perché è una cosa passiva voi recuperate le scorte le rubate le mettete lì il laboratorio di acidi produce e poi vendete insomma sostanzialmente è veramente facile eventualmente potete anche rubare acquistare le scorte senza rubarle però insomma io vi consiglio di rubarle passiamo adesso all'agenzia che insomma è un business sostanzialmente che vi permette di fare parecchie cose c'è anche l'armeria da cui potete comprare le armi aliene solamente lì in questo momento su gt online potete fare il contratto di dr 3 che vi dà un milione e lo potete ripetere e in più c'è la possibilità appunto ragazzi di completare i contratti confidenziali che sostanzialmente sono missioni abbastanza facili e molte volte hanno i soldi doppi conviene principalmente farlo quando hanno i soldi doppi o tripli perché vi danno dai 70 ai 100 mila dollari altrimenti sono 35 30 mila dollari però ragazzi più contratti confidenziali completerete più soldi passivi farà l'agenzia che potrete ritirare tramite la cassa porte che adesso vi farò vedere ad esempio avevo letto da qualche parte che completando se non erro 500 contratti confidenziali che sembrano tanti però se uno gioca tutti i giorni insomma se li fa tranquillamente diciamo che vi permette di fare tipo mezzo milione passivo al giorno una roba del genere comunque è veramente una bomba ovviamente è difficile da raggiungere come quota però ci sta e in più c'è la possibilità di fare gli omicidi in linea di franklin che vi danno 80 mila dollari completando il bonus che è una cavolata ogni volta insomma ti può fare esplodere che ne so l'obiettivo con un cecchino è una cavolata e molte volte hanno i soldi doppi passiamo uno dei business migliori del gioco ovvero il night club perché insomma sostanzialmente è unico alla cassaforte che vi permette di fare un guadagno passivo se avete la popolarità del night club al massimo diciamo che tenere la popolarità al massimo è una cavolata perché dovete fare delle missioni insomma di pubblicità al night club quindi nulla di difficile come vedete qui andiamo a prendere 56 mila dollari senza fare assolutamente nulla ovviamente si riempie ogni giorno reale su gt online quindi ogni 48 minuti diciamo che con il night club tra popolarità al massimo magazzino del night club vi fate 50 60 mila dollari l'ora quindi in totale 100 mila dollari l'ora come vedete qui c'è il pannello di controllo potete andare a vendere i prodotti che vi fanno passivamente i dipendenti del night club collegando appunto gli altri business quindi secondo me è un business da avere certo costa un milione e tre un milione e sei quindi neanche tantissimo a livello qualità prezzo è ottimo ovviamente vi consiglio di comprare anche le migliori e lì ci spendete un altro milioncino buono però ne vale assolutamente la pena comunque il business del night club è uno insomma da coltivare perché appunto vi permette di guadagnare parecchi soldi passivamente passiamo adesso al miglior business del gioco non che ci fossero dubbi però comunque è caio perico con ovviamente il cosacca che vi costa dai due milioni e due al quattro milioni e mezzo se ci comprate anche i veicoli della moon pool che vi consiglio ovvero lo sparro perché appunto è comodissimo per completare il colpo colpo a caio perico se siete proprio bravi lo completate in 40 minuti fate un milione e mezzo l'hanno nerfato quindi ci hanno messo cooldown di tre ore se lo fate da soli eccetera eccetera ma se lo unite ad altri business rimane sempre il più conveniente perché appunto il colpo a caio perico dopo che l'avete fatto due tre volte è sempre la stessa cosa potete scegliere tantissimi approcci quindi non vi annoierete mai almeno nel breve periodo e vi permette vi ripeto di guadagnare tanto in poco quindi l'obiettivo secondo me di un nuovo giocatore è quello di farsi il night club e di farsi il cosacca per fare soldi passivi e soldi attivi insomma perché quando fate il colpo con il cosacca e fate le preparazioni il night club vi produce la merce poi potete andare a vendere la roba del night club nel mentre che il colpo si resetta quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi ringrazio ancora tanto per la visione noi ci vediamo al prossimo video